Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Child of Light Allora, vediamo un po', forza avvicinatevi e si vedrà Oddio, questa cosa è bellissima Oddio, è troppo bello Ok, vediamo un po', madame capelli, scusatemi tanto, ah è madame capelli, ok Cerchiamo di andare al tempio lassù Madame, un bel corno, non sono come loro Capilli del borgo, di sciocchi una tribù Mi chiedete mai, perché la menta è fredda? Non ve lo diranno, a nessuno danno retta Grazie dell'avviso, ma ormai dovrei andare Aspetta, vedo che gli oculi avete fatto incetta Vi ne darò una serie, vi serve protezione? Ecco un consiglio, bello e pronto Unisci gli oculi per renderli più forti Scoprilo da te, che io son tonto Puoi dare gli oculi a coloro che stimi E' meglio se li riesci a condividere Ora sperisci, piccola bimba Non mi piace come mi stai a sorridere Ok, grazie, ma tutto qua? Ok, speravo mi dasse qualche indizio per andare all'altare Mi ha dato degli oculi Allora, aspetta un attimo Tanto abbiamo qualche abilità Una per Aurora Io direi l'aumento di fesa magica Così dopo abbiamo il fendente Uno per Rubella Rubella andiamo verso l'altro vivifica Due per Finn Per Finn direi di andare Vediamo Fulgore Fuoco Io direi di andare verso l'altro fuoco E tre per Nora Per Nori direi l'inarrestabile Poi abbiamo un altro inarrestabile Qui abbiamo la fretta E qui la stasi Qua c'è la pietrificazione Scusate, ma non posso attivarla? No, non posso Come si fa ad attivare questa? Ah, tutto così, ok Facciamo Aumento colpo critico E sì, dai Così dopo andiamo verso l'altro inarrestabile Inventare Mi ha dato altri Aspettate Aspettate, aspettate, aspettate Oculi Però io non so come si faccia a creare gli oculi Unisci più oculi Per creare gli più utenti Sinceramente Non saprei Eh no, infatti Consiglio Eh, ma a cosa mi servono queste cose? Non ne ho idea Boh, vabbè Andiamo avanti Speriamo ce lo spieghino Qui cosa c'è? Su alla cittadina Dei bonus popoli E a destra la foresta di Matilde Ok, andiamo da questa parte Allora magari Mi prendo Che cosa? Oh mio Tio Allora Andiamo verso l'alto Che non ci sia qualche Rivelazione Come sempre Salve Salve Allora Io prima mi curo Ok Eh, io Combatterei un po' più tardi Magari Non adesso Da questa parte si va Direi di no E allora Uh, ok Qua c'è la cascata Ma che cosa è? Una mano Ok Questa è una mano Oddio Ma è una faccia L'occhio Il naso La bocca Oddio Mi sa tanto Che siamo qua Eccolo qua Oddio No È bellissimo È bellissimo Qui c'è uno scrigno Mi dispiace Se le prendo Lo scrigno Che ha sulla testa Un paese Sul picco Mi pare di vedere La strada Che cerchiamo Ok Dovranno sapere Magna E i topi Oddio Ok Bellissimo Però aspetta un attimo Prima Devo andare ad esplorare Un attimo Dopo arrivo Prima esploriamo Ma tipo Posso entrargli in bocca? Direi di no Allora Qui che cosa c'è? Allora Qui c'è un altro Di questi Aspetta che me lo prendo Ok Ok E qua che cosa c'è? Uh Credo sia una porta Però aspetta un attimo Prima esploriamo Uh Ok Grazie Ok Anche questo Uh Che cosa? Ok Poi Questo Oh Ho sbagliato Questo Ok Adesso scendiamo Uh Salve Wow Che cosa mi spara? Mi ha sparato Ok Perché c'è Arbella Ok Hanno aumentato Tutti la velocità Maledetti Facciamo L'anti alterazione No Mi sa che Non ce la facciamo? Sì dai Ce la facciamo Forse Ok Ok Perfetto Ce l'abbiamo fatta Guardiani di Lemuria Ok Abbiamo completato Qualcosa Allora Qui c'è uno di questi Perfetto Uh No Che cosa? Ok E qua invece C'è uno di questi Si può andare anche giù Ah Siamo fuori? Ok Allora Aspetta un attimo Prima Scendiamo un po' Che cosa? Un momento Un momento Qua non c'era nulla No Mi sembrerebbe di no Uh Qua sì Da questa parte? Sì Ok Che cosa? Salve Arrivo eh Prima prendo questo Salve Ma chi è questo? Non ho luce Non posso lavorare Un altro mestiere Avrei potuto fare Poverino Posso comprarti Il tuo lucciolino? No Mi spiace Potrebbe costare Preferirei fare a Natale Il tacchino Di un po' Di un po' di luce Ho bisogno Averne un pochino Sarebbe un sogno E che cosa? Non ho nulla da dargli Aspettate Vediamo Nell'inventario Potete Il desir della fame Il desir lucicante Ah no Riempi la barra Non c'entra niente Polvere Non ho niente da dargli Per far luce Non è che magari No davvero Non saprei Dobbiamo trovare qualcosa Cosa per far luce Povero Però non saprei cosa Ok Qua siamo di nuovo fuori E qua invece Allora di qua nulla Ah Qua siamo dove eravamo prima Ok Ok Ci sono Però questa non l'avevo vista Ok Andiamo E c'è anche un'altra porta Credo Da un'altra parte Ok Momento No ma perché devo sempre Che cosa? Che cosa sta succedendo? Ok Si alza la lava No No Via Via Ok Ok Questa è terribile Ok ma si alza Ah e dopo si abbassa Ok Ok Aspetta Maledizione Ok 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 No No Non ce la facciamo Non ce la facciamo Non ce la facciamo Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Ok un attimo Aspettiamo Allora Non viene fino a qua Vero? No ok Ok No Aspetta Dov'è? Forza Forza Muoviti Ok Ok Ci siamo Mi sa tanto che adesso Devo anche tornare indietro Ok Ok Qui non c'è altro No Qui non c'è altro Qui c'è questo Che direi di prendere Ah ok Siamo qua Perfetto Perfetto Quindi non devo rifarmi di nuovo Il giro Ok Andando da questa parte Si esce Giusto? Si Qua siamo fuori Oh fuori Va bene Grazie Arrivederci Ok No Non così però Così Ok Qua c'è qualcos'altro Per caso Magari una rivelazione No Allora Scendiamo giù Ok Andiamo Adesso non mi ricordo più Però dov'era No Qua no Era qua forse No Era Qua Si ok Andiamo qua Che cosa? Ma stiamo scherzando? Oddio Che cos'è un boss? No Fermi Allora No Aurora Dammi Aurora Azione Proviamo Un raggio di luce L'acqua Qui mi serve L'acqua Assolutamente A dire Di concentrarci Su quello grande E poi pensiamo A quelli piccoli Ok 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 Ce l'abbiamo fatta Ok Nuovo livello Ok Polvia della difesa Ma che cosa Ma che cosa era Quella cosa gigante Ah è tutto questo Per uno scrigno Ma no Ok Dai Allora andiamo Ok Dovremmo Trovare un modo Per portare Uh salve Per portare la luce A quel povero tupino Ma non saprei come fare Comunque adesso Dobbiamo andare Qua Uh salve Questa zona di mercanti È meglio trascurare È solo Margaret Che vorrei corteggiare Ok Ma tipo Scusate eh Di qua No non ci va Salve Ci sono notizie Del mio cavo Ora lo stanno Assaltando Che cosa Che cosa Parble Voi E come si è messo I cui Cosa L'inflazione Ha guastato La loro salute Ma che cosa Ma che dialoghi Ok Ok Questa invece Mi sa che È la parte Un po' più povera I prezzi dei beni Sono precipitati A chi ha palipresso Sono spacciati Ah ok Sì effettivamente Questa è leggermente Più povera Come zona Ah ok Qua c'è un tipo Che ha bisogno Del nostro aiuto Ok D'accordo Arrivo Invece Qua Non si può andare Da nessun'altra parte No Ok Allora andiamo a parlare Con il tipo Salve Buon day signore Come va Procede bene Siete di passaggio voi Più o meno è così Che tipo di letture Ci sono nei libri suoi Io educo i popoli Ai dettagli E del commercio Oh Posso assistere anch'io Tu Temo che sarebbe Tempo sprecato Non hai orecchie O naso Per gli affari E il mercato Ma io vorrei Proprio partecipare Non c'è posto Vado a qualche parte A volare Signore Io le proverò Mi dia una chance Che nel commercio Riuscirò Ah Non hai denti Per mordere un affare Né fiuto Per un'occasione Beh ecco una prova Impossibile Che adoro Senza desideri Oculi O magie Prendi questa mela E commerciando con popoli E capilli Tu trasformala in oro Da te Da te Non mi aspetto niente Non sei brava Come la nostra gente Ok Questa è un'altra Delle missioni secondarie Credo Allora Inventario Questa Nelle pianure Nella foresta Fa della sfida Del mercante Il tuo capolavoro Vedendo la sua mela Per un prezzo d'oro Forse Vendendo la sua mela Per un pezzo d'oro Qua invece avevamo Il problema di rubella Che dobbiamo ancora Trovare il circo E qui il panico Pastorale Che dovevamo aiutare Lavo di Finn A trovare A liberare Insomma il suo giardino Ok Magari però Queste che sono Delle missioncine Secondarie Le faccio per conto mio Ok Allora Cosa facciamo Andiamo avanti O ci fermiamo Quasi quasi Io direi di fermarmi Magari vediamo Se si può fare qualcosa Tipo entrare qua Uh Qua c'è qualcosa Ok Sa Oh Un'altra missioncina Mi spiace Darvi disturbo Che cos'è Amleto Ma vi chiedo aiuto Ascoltate È un dragone Ha mangiato I tuoi figli Sa Mica un grifone Che cosa No Niente di costoso Non sono Un sprecone Ho appena comprato Una casa da abitare E voglio pulirla Da cima a fondo Ma in cantina C'è qualche creatura Mi pare Se poteste Debellare E aiutare Il qui presente Ne ricavereste Un premio evidente Ok Ok Dai L'uscio È ora Aperto Entrate E vincerete Me ne sono certo Ok Magari possiamo farla Questa Dato che È qua vicina Allora Intanto prendiamo Questo Facciamo questa Missione E poi ci fermiamo Ok Sì ma come fa Uno ad avere Una cantina Del genere Con le fiamme Che cosa Oh mio Dio Allora Di qua C'è soltanto Questo Salve Io prendo Un attimo Lo scrigno Momento Da questa parte Invece Cosa abbiamo E qui dentro Oh mio Dio Uno scontro Per te E per me Che cosa Era dentro Lo scrigno Oh mio Dio Aspetta Mi serve Fin Mi serve Fin No Poverino Sta male Fin Però Ok Adesso sta meglio Acqua Vai E invece Tu mi fai Un raggio Di luce Al tipino Qua Ma no È arrivato Prima lui Maledetto Maledetto Eh Adesso ci compisco Io però Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Wow Perfetto Nuovo livello Nuovo livello E nuovo livello Perfetto Ancora Ok Queste le mie Creature oscure E ora Cosa Ecco perché Ci hanno chiesto Di pulire Oddio ma Sono tantissime Ma Costui Ci ha Imbrogliati Te lo posso Garantire Ok Ok Allora Di qua Non si va Da nessuna parte Sì invece Uh Ok Interessante Allora Questo qua Cerchiamo di prenderlo Alle spalle Perfetto Così partiamo noi Ad attaccare Facciamo Allora Azione Colpo A questo Perfetto Azione Monsone A questo Ok No Contraattacca Maledetto Azione Monsone Vai Ok Perfetto E anche questo È andato Uh Perfetto Magari ci prendiamo Anche uno di questi Quasi quasi Mi sa che mi conviene Però Andare a combattere Contro Il tipo qua Che c'era All'inizio Aspetta Ok Oddio Allora Azione Colpo Vai su questo Azione Monsone Vai sempre su questo Ok Perfetto Perfetto Senza Senza È una cosa È una cosa È una cosa a tempo Ok Interessante Momento Ah C'era il meccanismo Bastava dirlo No Allora dammi Allora dammi Eh vabbè Dove me li ha mandati Ok ok Dai Dai che ce la facciamo Ci Allora prendiamo questi Stai attenta Ah ancora No Questa cosa mi spaventa Oddio No Allora Monsone Vai Fammi Fammi Un raggio Di luce Su Questo Ok Ce l'abbiamo fatta Perfetto Ok Nuovo livello Antidoto Allora Possiamo Questo era l'ultimo Da sistemare Ora ci divertiamo Dal bonus Possiamo tornare Ok Ok ce l'abbiamo fatta Ok Prendiamoci anche questi Apriamo qua Su non si può andare E allora torniamo indietro Ok E non mi ricordo più Dov'era però la porta Ah qua La cantina come va Avete finito È a posto ora Ma voi avete mentito Ogni angolo era di creature oscure Infestato Chissà quanto costerebbe il vostro operato Ma tanto nessun prezzo avevamo Che cosa Davvero un contratto forse firmato Certo che no Per citare Messia Nostache Di mio padre Il banchiere Questa è una schifezza Non un mestiere Vedo che negli affari Sei un spirito ardito Bene Vediamo ciò su cui avrei mentito Ah davvero Otti abbiamo completato Anche l'altra missione No Sul serio Aspettate Allora con lui Non si può più far nulla Aspettate L'inventario Dov'è Ah Da rinco ma Si è stato ripulito Ah no no Ok Non c'entra niente con questo Pensavo c'entrasse qualcosa No comunque Abbiamo completato La bolgia del bulmus Del bulmus Ok va bene Comunque Grazie a te La presenza di monstri È debellata Ma la mia casa È ormai ipotecata Ok Usciamo Perfetto Direi che Per questo episodio Possiamo fermarci qua Lasciate un piaccio Comment se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti